e benvenuti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di video di metodo oggi ragazzi siamo tornati in un video di forte ragazzuoli e non la raga mi raccomando con questo vi torna a bolla alla fine non ho portato il video per qualche giorno non so perché forse mi sconciava giocare un po boh non so il motivo però comunque ragazzi e portate che siamo qui ragazzi parto col boom ragazzi partiamo subito con la swap challenge che mi avete richiesto di tantissimi ragazzi nella rapporto vi spiego subito il tutto questa challenge consiste ragazzi per esempio chilo 1 e mi devo levare il mio lutto per prendere il lutto di quello che ho chiamato è nulla raga ora vedremo come andrà poi diamo la lettera reale io ne ho fatte uno la seconda non farebbe male è nulla pura di fila ho detto questo raga vi direi di andare via con il video mi raccomando iscrivetevi al canale di andrea iscrivetevi al mio canale like e commento ciao raga via con il video a 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